L'ultima volta che l'ho vista sembrava ancora una bambina ma ci faceva già girarla a testa e per vederla ad ogni appuntamento per me non era presto partire la domenica mattina L'ho vista questa primavera sembrava proprio una signora vestita col colori della sera una regina sotto i riflettori purtroppo per adesso la vedo solamente alla tv chissà com'è adesso la domenica con lei dimmelo tu che puoi sentire i privilegi che dà dille che io che io non l'ho tradita che io non l'ho dimenticata mai ed è per questo che ritornerei ho letto che da un po' di tempo lei viaggia spesso per l'Europa chissà che un giorno io non la riveda chissà che lei non venga proprio qui vestito per la festa che mi porta dritto a lei chissà com'è chissà com'è adesso la domenica con lei chissà com'è chissà com'è chissà com'è chissà com'è Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione